Abbiamo pregato anche durante la Messa per questa elezione del nuovo Papa, perché appunto arrivi un Papa che sappia rievangelizzare questo mondo che sta andando un po' alla deriva. La mia aspettativa del Vescovo di Roma, che sarà prossimamente, è che lui, la sua cura, cerca di dare maggior attenzione per i problemi delle famiglie. È la terza volta che vengo a Lourdes, e io vengo del Salvador, in Centroamérica, e io spero che il prossimo Papa sia un Papa carismatico, avviato alle donne del Spirito Santo e avviato a tutta la Iglesia nel mondo. Anche noi stiamo pregando la Madonna di Lourdes, perché appunto ci aiuti a ringraziare tutto quello che abbiamo intanto, e soprattutto appunto preghiamo perché ci sia un nuovo Papa che ci accompagni in questo nuovo millennio. Quest'anno, oltre a ringraziare per l'assistenza che Gesù e la Madonna mi hanno dato nella mia salute, anche una preghiera particolare per i cardinali che sono riuniti in conclave, affinché possano eleggere un sommo pontefice che, per quanto mi riguarda, essendo giovane, stia molto vicino ai giovani e sappia riunirci ancora nelle prossime giornate mondiali della gioventù in un clima di armonia, di gioia, dove la fede si veda molto con l'entusiasmo di noi giovani.